Al 31 dicembre 2023 le imprese liguri registrate nel settore del commercio erano 38.305, 3.255 in meno rispetto al 2019, quando le registrazioni si attestavano sulla cifra di 41.560. Una discesa continua, che ha avuto un'accelerazione dal 2021, anno in cui le imprese registrate superavano ancora quota 40.000. A mancare sono state soprattutto le nuove iscrizioni, che dalle 1.529 del 2019 sono precipitate alle 994 del 2023, ma è preoccupante anche il numero delle cessazioni, che dopo un biennio di flessione è tornato a superare nell'ultimo anno le 2.000 unità. I numeri non spiegano nel dettaglio le cause di questo tracollo, alla base della crisi il periodo pandemico, i cui straschi si sono legati all'inflazione e alle conseguenze della guerra in Ucraina, ma anche le criticità del territorio, come la questione delle infrastrutture. Da queste considerazioni è partito il dialogo tra istituzioni e associazioni sindacali e di categoria, per rilanciare i settori del commercio e dell'artigianato. Un progetto, partito dall'incontro pubblico nel Palazzo della Borsa Genova, che ha come obiettivo la costruzione di un patto per il lavoro sul modello del turismo, da adeguare però alle diverse richieste e necessità del mondo del commercio e dell'artigianato. È chiaro che si tratta però di due settori diversi. Mentre il turismo in questa regione cresce mese dopo mese, il commercio sta conoscendo una crisi molto forte, molto importante e quindi non è che si può semplicemente traslare l'accordo del turismo sull'accordo del commercio. Bisogna aprire una trattativa, un confronto, così come è stato nel turismo. Al centro la qualità del lavoro. I sindacati chiedono garanzie rispetto a questo tema. Il lavoro infatti non mancherà in Liguria, come indicano i dati Excelsior di Union Camere, che prevedono 41.000 lavoratori in entrata nel periodo tra marzo e maggio 2024, di cui 5.000 nel commercio. La maggior parte di essi avrà però un contratto a tempo determinato e molte volte la durata di questa tipologia contrattuale è molto limitata, come emerge da un'altra ricerca. Il 73,4% dei contratti a tempo determinato nel settore del commercio in Liguria termina prima di sei mesi. Per quanto ci riguarda l'elemento imprescindibile di questo patto, se arriverà come è stato per il turismo, è quello di puntare fortemente al lavoro di qualità, lavoro stabile, quindi incentivi sì, ma per creare posti di lavoro che non si risolvono dalla sera alla mattina.